Buongiorno, direi di cominciare questa giornata su aree proteste e territori circostanti dove esperienze a confronto, incontro tra il parco regionale Medellinone Stadossone Massaciuccoli e il parco nazionale di Guassù, Paranà, Brasile. Tanto per quello che riguarda il Comune di Pisa, vediamo se il sindaco potrà raggiungerci anche se ha qualche problema, nel caso che venga lo faremo poi parlare successivamente, direi però di non aspettare oltre, di cominciare anche per un fatto di tempi, altrimenti si va oltre tutti i tempi previsti. Io faccio da moderatore, ma naturalmente porto anche il saluto del parco regionale Medellinone Stadossone Massaciuccoli, saluto che è del parco, degli enti della comunità del parco, delle province e comuni e naturalmente della regione, che è l'ente al quale noi facciamo riferimento della regione toscana. La regione toscana è una regione che è molto impegnata sul tema dei parchi, in Toscana ci sono tre parchi regionali e tre parchi nazionali, poi tutto un altro sistema di parchi locali che portano alla tutela di una percentuale del territorio superiore al 10%, al quale poi si aggiungono i siti di importanza comunitaria delle zone protezioni speciali, tutto il sistema di tutela europea che andrà nel tempo stabilizzandosi, strutturandosi e crescendo. Noi siamo parte di questo sistema, di questo sistema regionale, compiamo proprio quest'anno i 30 anni dalla istituzione, siamo stati istituiti dal Consiglio regionale della Toscana nel 1979, una legge regionale, nell'ambito di quella generazione dei parchi regionali che per la verità non fu solo Toscana ma fu di tutto il paese, soprattutto del nord, Lombardo, il parco del Ticino, altri parchi, a partire dal parco della Maremma che è il primo parco regionale istituito in Toscana. Poi c'è il parco della Puan, un parco molto importante, molto particolare, insomma, della parte nord della Toscana. Per noi, dico subito, è una giornata importante, questa che poi culminerà anche nella firma di un protocollo d'intesa tra i nostri due parchi, ci fa molto piacere, il nostro parco è un parco che ha delle specificità, le fanno, diciamo, danno adesso gli aspetti positivi anche qualche problema, non da poco, un parco vicino a delle città, in un'area fortemente antropizzata, con tante infrastrutture, tante presenze e per questo rende ancora forse più particolare e originale la vista di questo fatto che ha saputo in questi 30 anni tutelare questi 25 mila ettari di territorio, complessi tra Livorno, Pisa, Luca e Via Reggio, la Vestiglia, che ha costruito anche su questa tutela anche alcune occasioni di sviluppo sostenibile. Il parco di Guasuc, siamo incontrati in questi giorni, è cosa diversa, diciamo, nella dimensione, nella grandezza, nella suggestione anche dei territori, ma che poi alla fine nel tempo, come ci veniva detto, sta incontrando gli stessi problemi di rapporto con le popolazioni, con le realtà esterne e quindi, diciamo, anche se siamo partiti da due punti di pazienza diversi, alla fine poi stiamo andati avvicinandosi, diciamo, in alcune problematiche che abbiamo in comune. Ecco, per cui direi di iniziare questa giornata ringraziando tutti i presenti, l'Università di Paranà, l'Università di Pisa e poi naturalmente i rappresentanti del Pasco di Guasuc.